Ciao a tutti, benvenuti a Bocce Nostri Rivali, ho il piacere di ritrovare il migliore, non lo devo dire perché devo sempre cercare di non dire queste cose, ma il mio più simpatico ospite, ecco dai diciamo così perché si dico il migliore e non vengono più gli altri, il dottor Luisona è qua per noi, per il pre partita di Atalanta-Bologna, questo big match, belli carichi, bello carico, ti sei tenuto un po' basso con le Lodi, ma va bene così la presentazione può andar bene al limite, io ve lo ricordo, è il secondo come visualizzazioni il video, come ospite, il Luisona, quindi questo lo dobbiamo fare meglio perché io e Luisona c'è la coppia del web, insomma, Emilia Romagna. Il Luisona va alla gnocca, il Luisona vale una gnocca, perché di la verità, chi è il primo, è la gnocca? No, è un maschio. Chi è che dettiene la prima posizione? Comunque. È un uomo ed è della Roma, mi fermo qui. è un uomo. Ah, ok, 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 ok. Dai, vai, presentati per chi non ti dovesse conoscere, ma qui ormai abbiamo... Ah, beh, la fama mi precede, se qualcuno comunque dovesse avere lacune macroscopiche in termini di calcio, il cui presente sommo nonché erudito, si chiama Dottor Luisona e c'ha un canale in Luisona a barcarci, quindi siete pregati, qualora vogliate di andare a visionare, iscrivervi e fare tutto quello che sapete, no? È buon costume. Quanta roba c'hai addosso? Cosa sono? Delle macumbe qua? Io comunque lascerò... È tanta, tanta, c'ho il flanellato. Il flanellato, il flanellato, ragazzi. Io che seguo Luisona so cos'è. Mi seguo il canale e sa cosa sia il flanellato. Mi raccomando ragazzi, live imperdibili del Bologna col Dottor Luisona che lascerò in descrizione appunto il link per seguirlo. Allora Dottore, innanzitutto grazie di aver accettato l'invito, mi fa veramente piacere. Abbiamo rischiato e si era scatenato. Madonna, sembravamo i Ferragnes che avevano litigato. Oddio, di questo periodo non è una cosa buona. No, appunto che avevano litigato. Allora, siccome mi hanno sbarbato della mia barba, almeno adesso non siamo più i due barbuti, mi hanno veramente... mi vergogno come un cane, mi sento... Dica la verità, me l'hai detto prima a fuori onda, ti ha sbarbato tua moglie di notte in maniera inconscia e inconsapevole. No, diciamolo. Così insomma salutiamo la mogliere intanto del mondo. Non è moglie ma è come se lo sia perché tanto con il mutuo è come se fosse... Lo tiene legato ugualmente, lo tiene legato con le catene a pane e acqua... Allora Dottore, sto Bologna, sto Bologna, cosa fa sto Bologna? Ti porto bene da quando mi conosci. Hai visto? All'andata penso che eravamo più o meno noi più due e come a questo giro e poi vincemmo, andiamo a più cinque, dimmi se sbaglio. Quindi la storia si ripete nel prologo e ora speriamo nell'epilogo. Oserei dire ma so che voi non sarete d'accordo con quanto io abbia appena affermato. Tra l'altro io all'andata ero in quel del Dallara da cui mancavo da un po' di anni, mi ha fatto anche piacere esserci un po' meno il risultato finale. Allora Dottore, come ci arriva questo Bologna? Carico a molla direi, carico veramente a molla. Carico a molla, come dici tu, siamo in un filotto di cinque vittorie consecutive. Abbiamo anche avuto una battuta d'arresto tra fine dicembre e inizio gennaio dove abbiamo subito una brutta sconfitta con l'Udinese, poi uno stop casalingo con il Genoa. Poi però ci siamo velocemente ripresi. in mezzo c'è stata la dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia, ma pur se sconfitti talvolta non meritavamo di essere appunto usciti non vittoriosi dal campo. Ad esempio contro la Fiorentina meritavamo, con il Genoa un pochino ci poteva stare il pareggio, con l'Udinese giocammo molto male. Ma adesso ci arriviamo forti i Gagliardi e speriamo di continuare a esserlo anche dopo Bergamo. Infatti io vi temo, vi temo, vi temo, ma sono ottimista, ti dirò che sono ottimista, nonostante le due prove milanesi, insomma, un po' così, un po' così. Tra l'altro sono fresco di quella di ieri sera, perché noi registriamo di giovedì ragazzi, causa al lavoro di tutti e due, però sono ancora fresco, che ho ancora un po' di nervosino per ieri sera, però ovviamente l'Inter ragazzi è davvero forte, vedremo cosa farà Bologna, vi auguro che non ci siano cose esterne e ci fermiamo qui. Adesso non ci pensiamo all'Inter, noi siamo con la testa solo all'Atalanta, non ci sono altre partite. È il big match ragazzi, è il big match, non l'avremmo mai detto. Non ci sono altre partite. Ma è il big match. C'è Napoli, Juve, Juve e Napoli, adesso mi sembra, non mi ricordo dove giocano, ma noi siamo più importanti. Atalanta-Bologna comanda questa giornata di Serie A, sicuro. Allora, cosa mi dici? Se vogliamo, al di là della partita che tra un po' ne parliamo, ma tutte ste voci, questo va via, quello va via, sono destabilizzanti o ci può essere una fonte di verità, secondo te? Perché su Tiago... A chi ti riferisci? Eh, ce ne sono due, soprattutto, lo sai benissimo. Il Tiago e il Joshua. Il Tero e a Joshua e a Tiago Motta. Beh, guarda, io dico quello che penso, come faccio sempre, e i giornali devono scrivere. Secondo me, all'oggi, neanche i diretti interessati sanno in realtà quale sarà il loro destino. E dunque, secondo me, se stiamo adesso qua a zardare delle ipotesi dei panorami, dovremmo vagliarne almeno due o tre differenti e sarebbe inutile. All'oggi, se tu mi chiedi, c'è già qualcosa che bolla in pentola di serie, visto che si parla, no, di Juventus, quantomeno per Tiago Motta, si parla di Zier, soprattutto in orbita Milan, no, mi pare di aver letto, io dico, sono degli apprezzamenti che sicuramente in casa, nella Juventus e in quella sponda rossonera di Milano ci sono, questo è in dubbio, ma rimangono apprezzamenti, nel senso che non penso proprio che siano state fatte alcun tipo di offerta. Anche perché Tiago Motta è adeso, coeso e concentrato alla realtà del Bologna, che è la grande, diciamo, discriminante che ne fa un allenatore mediocre da un allenatore forte. Un allenatore forte rimane coeso al presente. Tiago Motta non si lascia distrarre a febbraio, che adesso saremo a marzo quando ci vedremo, però insomma a marzo è troppo presto, quando lo vedrete saremo alle iddi di marzo e alle iddi di marzo se un allenatore si fa distrarre, quell'allenatore sicuramente non arriverà, anche perché, questo non mi stancherò mai di ripeterlo, se un allenatore forte sa di esserlo e non ha paura di perdere treni. Tiago Motta non ha paura di perdere treni e non escludo, e qui chiudo l'argomento, che Tiago Motta possa anche rimanervi a Bologna, perché poi ci vorrà il progetto giusto, non è che se lo chiama Napoli allora corre a Napoli, perché Oddio il Napoli così sulla carta sembra più forte del Bologna. No, no, bisogna poi vagliare, valutare e il Bologna gli garantisce un qualcosa che altrove è difficile che possa trovarli. Guarda Joshua, e poi chiude e ti do parola, la situazione è un po' più complessa, uno perché esiste una clausola per una società in Europa che è il Bayern di Monaco, che qualora voglia appunto avvalersene con 40 milioni potrebbe far tornare il giocatore indietro. Certo ci vuole il sì di Zirk Zer, perché non è che lo possano fare quattamente, e quindi io dico, spero, credo, che ci possa essere una sorta di gentleman agreement tra il Bologna e il Joshua Zirk Zer per fare in modo che il giocatore non accetti la destinazione Bayern di Monaco, che possa essere consapevole della sua forza e che possa sapere che il Bayern di Monaco laddove vorrà tornarci un giorno ci potrà tornare ma non adesso. Guarda, io ti dirò, Tiago penso che se va via va solo in qualcosa di veramente grosso, quindi sulla carta, ti dico la mia, poi io non sono... Escludiamo la Juve quindi. No, no, estero, 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 estero. Per me in Italia non va da nessuna parte. Avevi fatto una descrizione che escludava la Juve. Mi sta, perché io ti ho detto estero, qualcosa di grosso estero vuol dire che in Italia non c'è, a parte l'Inter, ma l'Inter non credo che si privi di quello lì, nonostante non abbia la mia stima, però sti cazzo c'è niente da dire al signor Simone Inzaghi. Chi? Non ti piace neanche Simone Inzaghi? Tra Simone Inzaghi e Tiago Motta te lo dico col cuore, preferisco Tiago Motta. No, non mi piace Simone Inzaghi. Ci picchia. Vabbè, oh, ascolta. Ci picchia. Potremmo aprire dei capitoli che non faremo sul perché? Io e te, se andiamo, perché mi ha rubato la fine di Coppa Italia, ma quello è un dettaglio. Non da sottovalutare. Ma se io e te andiamo a allenare l'Inter, vince anche con noi l'Inter quest'anno, perché cazzo, non è qualcosa. Ma se parliamo delle nostre, non parliamo di quelle brutte cose. Al di là di questo, ripeto. Però non sottovalutare il lavoro che ha fatto Simone Inzaghi. No, no, beh, ripeto, i numeri parlano per lui, questo sto dicendo. E sto dicendo che, secondo me, l'unica piazza in Italia che potrebbe portarlo via dal Bologna potrebbe essere l'Inter per anche fattori passati, eccetera. Io in una Juve, in un Napoli, in un Milan, anche perché il Bologna comunque sia come tu, e te lo riconosco sempre, hai detto che saputo i soldi li hai, per cui se hai saputo fare in grande, magari gli dici, guarda, sto trano, proviamo a vincere, sto esagerando, lo so. Però perché quando io l'ho vissuta, queste cose, quelli un po' più vecchi del Bologna l'hanno vissuta anche loro, ma quelli più giovani no. Quindi io capisco l'entusiasmo che c'è a Bologna, io abito veramente vicino a Bologna, io ne conosco una marea di bolognesi e c'è un hype che quando vengono... C'è un bel clima, c'è un bel clima adesso. Io c'è un ragazzo che lavora da me, che fa il chimico, che saluto Francesco, qualora guardasse il video, tifoso del Bologna, c'è tutte le volte, è tutta di quella. E quindi io vi capisco, perché anche a Bergamo era così, è normale, è ancora così, quindi è bello. Ma poi io penso che tutto il mondo sia il paese, adesso parliamo di Bologna, ma sicuramente anche la realtà lì a Bergamo, quando l'Atalanta aveva cominciato a fare quella grossa scalata, se ti ricordi sarà stato così, come sarebbe così a Lecce, come sarebbe così a Cagliari, di come sarebbe così, io penso che in qualsiasi città italiana... Quello che volevo arrivare a dire è quello, l'abbiamo vissuto noi, quindi capisco benissimo e condivido, capisci? E quindi cosa ci aspettiamo da questa partita, dottore? Cosa ci aspettiamo? Cosa si aspetta dal suo Bologna? Io dopo questo inizio, che poi non è più un inizio, questo continuo che sta facendo il Bologna di Tiago Motto, io non mi pongo più limiti e la consapevolezza è quella che si va a Bergamo e noi si ha la forza di voler portare a casa, di volersela giocare per portare a casa i tre punti. Ecco, questa è una certezza che ho. Poi certo sarà una partita tignosa come all'andata, una partita abbastanza, secondo me, chiusa, perché il gioco di Tiago Motto è un gioco equilibrato, ma che comunque, seppur fatto di possesso palla, è anche un gioco offensivo, che se ne voglia, bisognava solo registrare un attimino la situazione offensivamente parlando anche in casa Bologna e vedendo anche le difficoltà dell'Atalanta ieri di difendere, certo c'era davanti un Inter che ti prendeva in ogni dove, e stiamo parlando dell'Inter, che è una società, secondo me, oggi, che può competere, secondo me, una tra le tre più forti dell'Europa. Io la forza la metto dopo solo a City e a Real Madrid, forse, tra Real Madrid, forse. E quindi, vedendola ieri, l'Atalanta, lascia ben sperare, non sarà quell'Atalanta contro il Bologna, il Bologna non è l'Inter, e pertanto sarà una partita tirata e, ovviamente, come d'altronde è banale dire, saranno gli episodi, è ovvio. Ecco, io mi auguro solo, e questo è l'appello che faccio, che gli episodi non vengano decisi da una classe arbitrale, ma vengono decisi dai 22 giocatori in campo. Questo è l'augurio che faccio. Sare contentissimo di andare in Champions insieme a Bologna, mi farebbe veramente piacere, perché di quelle lì è in dubbio, anche perché sono di Ravenna, quello che vuoi, ma anche molti bergamaschi, penso che la pensano come me, ci farebbe piacere. Ma io ho un problema, io penso che la Roma, in un modo o nell'altro, un calcestino nel sederino per fargliela andare, glielo danno, quindi per cui qualcuno dalla torre deve cadere. L'ho detto torre per caso, non volevo dire, veramente è velata questa. A meno che non succeda che i posti Champions da 4 divengano 5, che è uno scenario plausibile. Esatto, è uno scenario plausibile, però comunque siamo 6. Milan, attenzione al Milan però, il Milan non è poi così distante oggi. Uno pensa il Milan e il Milan, allora il Milan deve sicuramente continuare a macinare punti, però di punti ne ha persi parecchi per strada. Poi, non so dicendo che Bologna e Atalanta andranno sopra il Milan, e anche la Roma, questo no. Però ecco, il Milan deve poi stare attenta, di non sentirsi sicura del terzo posto, perché potrebbe essere un errore. Poi, oh certo, stiamo sempre parlando a scenari ovviamente dove sono a decidere i giocatori, non altre figure. Esatto, esatto. Perché scendono in campo altre figure, allora non ce n'è per nessuno. È per questo che ti sto dicendo, l'unica paura, e qui lo sai, la pensiamo identica, perché è una cosa che dico veramente sempre io, come avevo detto per l'Inter, spero non siano gli episodi. Poi ripeto, l'Inter avrebbe stravinto lo stesso, magari non quattro, ne avrebbe fatti solo due, però capisci che c'è un po' di tiraculo detto tra noi quando vai il vantaggio. Per sapere, sei d'accordo con la sfugliata che ha fatto il percassi, oppure la ritieni eccessiva? La ritengo eccessivo, però è vero che a quanto meno... Allora, il gol, ragazzi, se andiamo a guardare, il tocco di mano c'è, proprio velato, però c'è, devi andare lì, infatti ci ha messo sette minuti a trovare qualcosa. No, beh, ti dirò di più. È rigore che non mi convince per niente. Il tocco di mano, io l'ho visto... No, aspetta, l'ho visto in diretta. Io avevo visto che era a mano in diretta. Infatti non capivo perché ci stessero mettere tutto quel tempo. Ho visto in diretta, in diretta si è visto. Per quanto riguarda il rigore, la palla non è uscita. Su questo si andava. Però lui entra in aria. Diciamo che il diverbio nasce dalla bandierina che viene alzata, però il regolamento dice che è l'arbitro che deve decidere se il gioco venga fermato o meno. Che Atebor possa essere stato confuso da quello... Beh, io ci credo poi il giusto perché... E sono frazioni di secondi, Monta. Cioè, tu sei lì per difendere sull'attaccante, non per guardare cosa fa il guardalinea. Io penso, anche se con la coda dell'occhio sicuramente l'ha visto, non penso che abbia influito sulla difesa che poi nella frazione di secondo più tardi è andato a commettere. Io capisco magari la sfuriata di Percassi da un certo punto di vista, però penso che abbia sbagliato i tempi e le modalità. Esatto, soprattutto la vigilia di una partita importante. Bravo, bravissimo. Perché comunque non si sa mai. Ecco, e detto questo... Vai, vai. E mettendoti adesso nei miei panni da tifoso del Bologna, io vedendo sfuriare così ieri per Cassi alla vigilia di Atalanta-Bologna, un pochino, un pochino, mi ha, diciamo, fatto venire pensieri cattivi. Spero che non succeda quello che nella mia mente si teme, che è una mia paura, non è una realtà, una solida realtà che debba succedere. Però ecco, io spero che la terna arbitrale arbitri per quello che accade in campo e non per sorte di compensazione. Perché poi non ci sarebbe niente da compensare, anche perché ricordo, il Bologna se si va a stirare una classifica di danni arbitrali, io penso sicuramente nei tre là davanti. Ho avuto dei torti... Vai, vai. Pazzeschi. Non so se ti ricordi in Juve e Bologna il fallo che dovrebbe essere l'emblema di Cossi Un Rigore. L'emblema. I Lighi Junior su Indoyer non andarono neanche al VAR. Oggi vanno al VAR perché è un giocatore al limite dell'aria, c'è qualcuno che, pur l'attaccante spalla la porta, gli tocca il malleolo e allora, oddio, è codificato il rigore. Però quello là, il Lighi Junior, ci può tacere andare avanti. Guarda, ci sono delle cose che non tornano. Ti dico, ieri il fatto di... Poi non ne parliamo più di ieri, perché già ci sto male. Già c'ho dei colori qua vicino. No, no, ma adesso stavamo parlando in generale. No, no, no. Però io per finire il discorso di ieri era quando Di Marco entra in area e si vede nettamente che Di Marco entra in area prima che lui calci. Quello a noi piccoli ce li fanno ribattere. Sì, sì, a noi ce li fa ribattere. Per il resto, niente da dire, loro sono più forti, avrebbero stravinto lo stesso. Fossi stato in Gasperini, avrei fatto un turnover molto più ampio per preservarci, per voi, e soprattutto, non lo dico, per sminuire assolutamente i buoni, anzi, ti ripeto, è una partita che ci tengo parecchio, mercoledì con lo Sport in Lisbona. Quindi, essendo due partite veramente importanti, io avrei fatto, non dico l'Under 23, però, a Milano con l'Inter, detto tra noi, di avere una botta di culo come il sassuolo, veramente grossa, ecco, detto così. Bisogna avere più, perché l'Inter si informa, dai. Voglio concludere chiedendole una cosa, al di là del fatto che comunque l'abbiamo già detto, cosa ci aspettiamo, non lo diciamo nessuno dei due, ma tutti e due, sotto sotto, vogliamo quello che, vorremmo i tre punti, e ci fermiamo qui, non facciamo pronostici, però questa è una domanda che ti volevo fare, in privato, ma te la faccio adesso, visto che ci siamo, un po' persi, dei nuovi acquisti del Bologna, chi è che ti gasa di più? Non ti dico, faccio proprio questa domanda, proprio da tifoso, da bar. Dei nuovi, quindi quelli di gennaio, quelli di gennaio, No, quelli di gennaio, proprio, il mercato invernale. Ah, quelli di gennaio? Sì, sì, sì. Assipicchia. Beh, adesso, Castro, praticamente, non l'abbiamo, te dici sulla carta, anche se non si sta sulla carta. Sì, non è che hanno giocato tanto, cioè, di quelli che hanno preso, quello che ti ha fatto più contento, diciamo, quello che dici, beh, questo può essere, ad esempio, Castro, per me, per il futuro, può essere, in colpo alla Sassoli. Se non dici sulla carta, anche sentendo la presentazione che è stata fatta proprio in questi giorni, Castro viene quasi decantato come il nuovo Lautaro Martinez, quindi, sai, anche per la cifra spesa dal Bologna, che è stata, diciamo, l'acquisto più oneroso di questa campagna invernale, perché abbiamo smenato più di 10 mili euro, ecco, allora, se tu mi chiedi, io ti dico Castro, perché non ti posso dire né Odegaard, né Iliz, perché Iliz è un giovane calciatore, difensore, che non ha mai ancora neanche lui calcato il campo, Odegaard, se vogliamo dire quello che ha già calcato il campo, e ne ha già fatti due, potremmo dire anche Odegaard, risopronominato Godegaard, però ecco, se tu mi chiedi, io vado in proiezione più lungimirante, e ti dico Castro, sperando che possa essere la metà di un Lautaro Martinez. Ma magari proprio il colpo alla Sartori, guarda che ce li hai i colpi Sartori, lo sai. E di Sartori, di colpi ne ha già fatti parecchi. Esatto. Per quello la domanda era per quello. Calafiori, Andoyè, se ne è a Iosa, ok, però ben allenati da Tiagomato. Va bene, questo te lo riconosco. però si parla troppo poco del buon direttore, quindi io obiettivamente ho sempre piacere di dirlo, proprio perché per me è un pezzo di cuore. Non da par mio, che è andato via. Io l'ho sempre zannato. Tu no, tu no, tu no, in generale, in generale dico, perché tutti parlano, però anche dello stesso saputo, Tiagomato e ragazzi, Tiagomato e ragazzi, però c'è, ci sono anche loro, ed è una bella società. Dottore, io ti devo lasciare andare. Sartori, Sartori, per me è stato un onore, un piacere, come dico sempre io, lusingato ed alcolizzato, di essere stato in vostra compagnia, carissimi, carissimi, quindi io ti saluto, caro Monta, saluto tutti i tuoi carissimi avventori bergamaschi, alcuni di loro, probabilmente vengono anche a basticare, nei miei dintorni, quindi carissimi. Ah, è vero, è vero, dobbiamo salutare il buon Giovanni, ce lo siamo detti prima, e non l'abbiamo salutato. Un saluto al Negri, che stavo, stavo per redigere, stavo per redigere la delega, per appunto far sì che fosse lui, quest'oggi, a registrare con te, caro Monta, il video pre-partita. Poi mi si è liberato, dici minuti, un quarto d'ora, e allora è saltato il tutto, ma il Negrelli era già lì pronto, con cappelle d'occhiale. Avevamo il soze. Bene, oh, grazie davvero, dottore, è stato il piacere, mi ha fatto il piacere, esserci trovati, che avevamo scatenato, le ire del web, il gossip, perché il Monte e Luisona, stava perché, lavoriamo ragazzi, cioè, obiettivamente, incastrarci, soprattutto, con i miei turni al casino, grazie di cuore, mi raccomando, mi raccomando, iscrivete al canale del dottore, che lascerò qua sotto, anche al mio, lasciate un mi piace, quando vedete, commentate, e soprattutto, voleva dirvi, dottore, cosa volevi dire, stavi per dire una cosa importante. tre puntassi, tre, non mezzo di meno. Stavo, stavo per fare un gestaccio, no, speravo, dicessi, e il flanellato, e il flanellato accompagna, quindi attenzione. Sappi che potrei, è una minaccia, in direzione, tipo, orobico. Potrei comparire, all'intervallo, nella live, potrei comparire. A mo' di fantasma, a mo' di Casper. Ciao ragazzi, grazie a tutti, ciao dottore, grazie mille, vincere migliori. Ciao carissimi, ciao, 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 ciao. Ciao.